Questa mattina a Casoria i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distruttuale antimafia della Procura Partenopea nei confronti di due soggetti gravemente iniziati, uno per estorsione aggravata dal metodo mafioso e l'altro di due episodi estorsivi aggravati dal metodo mafioso, di cui uno tentato e uno consumato. Nonché dell'omicidio di Giarnieri Antimo all'epoca 19enne e del tentato omicidio di un soggetto minorenne rimasto nell'occasione ferito al fianco sinistro. L'evento si verificava in data 8 luglio 2020 a Casoria in terza traversa via Castagna comunemente nota come Parco Smeraldo e sin dalle prime attività investigative la vicenda ha presentato agli inquirenti i classici tratti di un agguato connotato dal carattere mafioso. Quella sera infatti il killer disceso da una vettura guidata da una persona allo stato ignota esplodeva all'indirizzo di un gruppo di persone 8 colpi di pistola calibro 7,65 di cui 4 colpivano i Giarnieri provocandone la morte e un colpo raggiungeva il soggetto minorenne scampato fortuitamente alla morte. Le indagini condotte dal nucleo investigativo di Castello di Cisterne coordinate dalla DDA di Napoli hanno permesso di accertare che il reale obiettivo del russo fosse un altro soggetto fatalmente scambiato per l'incensurato Giarnieri risultato invece strano a dinamiche delinquenziali. Il grave fatto di sangue secondo gli elementi raccolti va inquadrato in una violenta contrapposizione tra fazioni della criminalità organizzata in lotta per il controllo della piazza di spaccio del Parco Smeraldo, luogo in cui si è consumato il delitto. In particolare a Russo Tommaso, individuato dalle investigazioni in corso quale soggetto gravemente indiziato per l'aguato presso il Parco Smeraldo, oltre ad essergli contestato l'uso di armi, viene contestata l'aggravante del metodo mafioso, in quanto farebbe agito per agevolare l'attività e gli scopi criminali del gruppo camorristico di cui il referente territoriale Barbato Salvatore, alias Totoro Khan, elemento contiguo al clan Moccia e lo stato detenuto per estorsione gravata dal metodo mafioso, nonché allo scopo di affermare il controllo di quest'ultimo sul territorio. Nel corso delle attività investigative sono stati inoltre contestati due episodi di natura estorsiva di cui uno tentato e uno consumato, ai danni di due spacciatori del luogo che per poter continuare delle loro illecite attività di spaccio erano costretti a versare una quota imposta dal clan, altro elemento sintomatico della volontà di imporre un controllo capillare del territorio attraverso il cosiddetto racket sull'attività di spaccio. In uno degli episodi contestati uno degli indagati strappava parte del padiglione auricolare ad una vittima minacciandolo di fare il bravo perché ora ci siamo io e Totoro Khan. Nella seconda estorsione poi i due si facevano consegnare la somma di 500 euro, quale quota mensile imposta dal clan, da un soggetto ristretto agli arresti domiciliari ricorrendo anche a violenza fisica per costringerlo a consegnare il denaro. Il tutto dinanzi alla moglie della vittima anch'essa credita brutalmente nel mentre cercava di reagire a difesa del marito.